Siamo passati anche dentro la ruota della fortuna, non ne ho accorto. Allora, subito dopo essere passati nel palazzo, lo fai che sei a 2000 gradi di rinnovazione. Prima ho guadagnato un po' di batteria. Quello qua, culo adesso! Hai capito che volevi fare quello da 3000? Vieni là, e dici, oh ma no! Mi pare che il mio sento tutto funziona. Io te l'ho retta a te, tu te l'hai retta a me. Nel rispetto reciproco, ovviamente. Oooo, sugoiii! Che!